Iniziamo a comprendere come la riconversione e l'innovazione del sistema imprenditoriale italiano può avere corso. Ovviamente lo faremo con illustri ospiti Renato Loiero, Massimo Caputi, Giusella Finocchiaro, Valentina Marchesini, Franco Moscetti, Veronica Tibiletti. Modera sempre Luca Telese, invito i relatori a prendere posto. Benvenuti. Prima di iniziare il panel Ho il piacere di mandare in onda il saluto del Vice Ministro all'Imprese e al Made in Italy, Valentino Valentini. Prego la regia. Buongiorno. Appuntamenti come quello odierno sono importanti occasioni di incontro e di sviluppo di sinergie pubblico-private per avviare delle azioni che rilanciano la competitività del nostro Paese. Stiamo attraversando un momento storico senza precedenti in termini di conflitti e di crisi. Molte sono state le azioni a carattere urgente interprese dal Governo in questo contesto. Sono però necessarie politiche strutturate di più ampio respiro per il rilancio e la crescita e la produttività del nostro Paese. In questo senso l'imponente sfida della doppia transizione verde e digitale pone al nostro tessuto produttivo l'obbligo di cambiamenti difficili, impegnativi, che possono però essere anche diventare una grande opportunità. Ed è proprio su questo fronte che come Governo e con il Castero che rappresento abbiamo voluto essere al fianco delle imprese con alcune misure fondamentali di sostegno in termini di sostenibilità e digitalizzazione. Penso, tra le altre, alla nostra misura cardine del credito 4.0, oggi ripensata in ottica green. Ne hanno beneficiato oltre 150.000 imprese per uno stanziamento di 24 miliardi. Penso al rifinanziamento della nuova Sabatini Green. Penso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, 300 milioni di Euro. E penso anche all'iniziativa Investimenti Sostenibili 4.0, finanziata per 400 milioni di Euro. Altrettanto numerose sono le misure a sostegno della trasformazione digitale, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese, tra cui il finanziamento dei centri per il trasferimento tecnologico, la misura Smart Start, e gli accordi per l'innovazione in tema di tecnologie abilitanti fondamentali. Siamo poi intervenuti anche con azioni complementari sul tema dell'approvvigionamento di materie prime critiche, soprattutto avvertito per via della preminenza del settore manifatturiero nella nostra industria. L'Italia, infatti, è prima nell'Unione Europea per l'incidenza delle materie prime critiche sul PIL. Siamo a un livello quasi del 40%. Su questo fronte abbiamo istituito quindi il Fondo Nazionale del Made in Italy, per un miliardo di Euro iniziali, che devono supportare la crescita delle filiere strategiche nazionali. Si tratta di una misura che fa parte del più ampio e organico intervento del decreto legge Made in Italy, che proprio in questi giorni, quest'oggi, abbiamo discusso in Parlamento. E contiamo di concludere a breve. Contiene misure di supporto, valorizzazione e promozione delle nostre eccellente, che spaziano dalla formazione alla lotta alla contraffazione, fino ad arrivare al sostegno delle filiere e allo sviluppo delle tecnologie. Veroi vorrei però concludere osservando che il tessuto economico non può crescere in un contesto di incertezza giuridica, con ostacoli burocratici, con lungaggini amministrative. Proprio per questo ci stiamo impegnando, come Ministero, al fine di garantire una minore burocrazia e un maggior grado di trasparenza. Oltre al varo del DDL concorrenza in questo senso, che si trova alle battute finali in Parlamento, ci siamo proprio impegnati in una ingente riforma degli incentivi per semplificare e rendere più organico l'attuale sistema incentivante che conta più di 2.000 misure. Certo, molto ancora c'è da fare. E sono sicuro che la vostra iniziativa, a cui auguro ogni successo, potrà essere di grande ispirazione e di grande aiuto in questo senso. Grazie a Valentino Valentini, che ci mette nei temi di cui dobbiamo discutere ora per spiegare che cosa occorre fare per convertire e innovare il sistema industriale italiano. Ma ovviamente chiederò a Renato Loiero di essere un po' come il giudice istruttore di questo tavolo, perché ovviamente ci sono una serie di temi che sono nel cantiere. In questa iniziativa legislativa parlamentare che può aprire questa stagione ci sono alcuni temi cruciali. Il primo tema è come si tutela il Made in Italy, ciò lo siamo posti molte volte. Il secondo è il tema della proprietà industriale. E il terzo è quello degli incentivi alle imprese. Ormai parliamo industria 3.0, 4.0, 10.0, ma talvolta ci sono troppi strumenti, però solamente qualche volta ce n'è troppo pochi, in alcuni casi non siamo abbastanza flessibili. E poi esiste una norma non scritta, però mi colpisce, ad esempio nella vicenda di Stellantis, altri paesi hanno una capacità di marciare in un modo sincronizzato fra la pubblica amministrazione e le imprese che è veramente impressionante. La Francia arriva con l'intendenza napoleonica, dentro il consiglio di Stellantis c'è un consigliere che rappresenta il governo e per ogni stabilimento dice che deve restare in Francia e quindi magari coloro che ora vendono la componentistica Stellantis in Piemonte, aziende con grandissima capacità tecnologica, si sentono rispondere aprite una fabbrica in Francia oppure cambieremo fornitore. Questo ovviamente è un esempio solo paradossale, però spiega molto bene qual è la capacità che alcuni paesi hanno di sincronizzare la loro attività, le loro leggi e la loro pratica sul campo quando vanno a vendere il loro made in Italy nel mondo è il nostro. Ovviamente non vi sfuggirà che c'è anche un'altra anomalia italiana, noi abbiamo il più grande numero di imprese, più piccolo e più bello, abbiamo delle multinazionali che sono tascabili. Penso, una volta andai a fare un pezzo sulla famiglia Rana e Luca, il figlio, mi disse ci vediamo a casa mia, Giovanni, il padre che tutti conoscete degli spot, ci vediamo in azienda, guardate sul cartoncino, l'indirizzo era lo stesso. Perché? Perché mi accorsi che la famiglia Rana aveva costruito l'impianto circondando un'antica casa di famiglia e però ovviamente era il primo venditore di prodotti alimentari non solo in Italia ma anche in Spagna e in quel momento stavano brevettando una macchina che riempiva l'ognocco ripieno con un ago così sottile, un processo così complesso che mandavano dieci bodyguard per far produrre la particella che serviva per fare il prodotto perché temevano uno spionaggio industriale. Ora, questo made in Italy italiano quindi è molto particolare, ha una grandissima capacità di visione, di camminare per i propri piedi per il mondo ma ha anche una grande difficoltà di fare sistema. Quindi mi immagino per un legislatore quanto sia difficile intercettare questi bisogni così diversi. Quante ore ho per rispondere? Ovviamente io ringrazio in premessa il professor Balestra per l'invito che spesso ci dà delle socializzazioni importanti nel suo ambito disciplinare, quello cui è maestro, il diritto civile, il commerciale. Spesso interloquiamo anche su tematiche specifiche. Io ovviamente non affronto il tema così come è declinato da un punto di vista di analisi accademica. In primis perché il mio ambito disciplinare di elezione è quello dell'economia e della finanza pubblica, mentre qui se lo dovessimo sviluppare la tematica... Lo dico a tutti, questi microfoni funzionano proprio se uno incombe sul microfono. L'ambito disciplinare in cui si discorre è tipicamente l'economia industriale, volendo anche l'economia aziendale. Poi affrontare questa tematica con una compiutezza di analisi accademica, senza nulla togliere assolutamente all'accademia, impiegheremo molto più tempo, però mi preme almeno due elementi di sistema più generali. Citavi prima Luca il tema del numero delle imprese, noi abbiamo 3,6 milioni di imprese, gli Stati Uniti, che sono un'economia notevolmente più grande di noi, ha 4 milioni di imprese, la Germania ha 2,5 milioni di imprese, tutto quello che consegue alla frammentazione, all'anismo, ma non è qui il caso. Però almeno solo due flash sul tema, in estrema, se quelli che mi ritengo siano quelli più rilevanti per inquadrare la tematica. Il primo, il tema delle catene globali del valore. In tempo eravamo, fino almeno 15-20 anni fa, abituati a pensare a prodotti realizzati, in un paese, in un limite di due o tre paesi. Un oggetto come questo è composto di circa due o trecento componenti, un ampio numero di materie prime critiche, le citeva il viceministro Valentini, prodotti nei paesi più diversi e più disparati, però la tecnologia, il know-how, è ancora saldamente in mano alla casa madre, è un iPhone. E ovviamente Apple tiene in particolare a conservare due cose, il controllo sulla brevettualità e su come è costruito questo oggetto e sul fatto che non sia possibilmente smontabile, perché più lo puoi smontare, più puoi capire come è prodotto, come vengono composte le varie parti, più lo puoi imitare. Poi i tentativi di imitazione a tutt'oggi sicuramente non realizzano a livello qualitativo o quantitativo di questo prodotto che quasi così tante persone utilizzano, le fanno addirittura quasi nel centro dei propri affari interessi, come si dice, nel diritto. L'altro tema, oltre appunto all'estrema frammentazione del panorama imprenditoriale italiano, che è un dato appunto sicuramente strutturale, è il tema della globalizzazione. Negli ultimi vent'anni non passava giorno che non si parlava di globalizzazione, poi la crisi del 2008 e la crisi del 2010 ci hanno indotto a rivedere il paradigma dell'offshoring, allontanare le imprese dalla costa, in inglese, e adesso si tende a parlare di reshoring, di neershoring. Quello che mi preoccupa di più è il friendly shoring, cioè il fatto che si tenda a rimodellare la globalizzazione in un'ottica di divisione tra modelli di governo, tra autocrazie e democrazie. Vedete il BRICS, Brasile, Russia e Undiacinia, adesso si sta allargando ad altri paesi, avete visto l'elenco di quali paesi stanno per entrare nel BRICS, e di come i due conflitti attualmente in corso si siano ingenerati da due paesi che uno c'è e un altro ha fatto domanda di ingresso. Quello è il dato geopolitico che mi preoccupa, che forse ci dovrebbe preoccupare di più. Non induggo troppo nell'analisi di ordine più generale. Rispetto a quello che mi dicevi tu, a quello che cosa fai, ha fatto il governo, a parte ovviamente, voglio citare l'esito del vertice intergovernativo italo-tedesco di ieri, sapete la Germania è il nostro primo partner commerciale, noi siamo una economia, una grande economia di trasformazione, viviamo essenzialmente su questi 700 miliardi di esportazioni che consentono di mantenere in equilibrio il saldo, anzi in leggero avanzo, il saldo delle parti correnti rispetto a un paese, come sapete, importa gran parte delle materie prime che consentono di trasformare e di riscaldarci. Ci sono almeno quattro punti del plan action Italia-Germania che vorrei sottolineare. A parte il preambolo, ci sono cinque capitoli tematici cui si andrà ad approfondire rispetto al tema di oggi. Il primo punto è economia, innovazione e coesione sociale. Dopo viene clima, energia e ambiente. Sui tre punti che mi hai chiesto di intervenire, in primis sì, quello che mi preme di più è ripercorrere il tema della delega incentivi, la delega incentivi è diventata la legge, la legge 160 entrerà in vigore, è approvata il 15 novembre, quindi il 30 novembre sarà legge dello Stato, cerca di fare ordine nel panorama certamente complesso, accennavi due degli incentivi. La relazione annuale al Parlamento sugli incentivi, in Parlamento vengono deposite una quantità di relazioni, report, tutti resi immediatamente disponibili a chiunque ne voglia fruire o le voglia leggere, e spesso c'è anche molta poca conoscenza di quanta produzione governativa viene inviata al Parlamento, tant'è che i funzionari dirigenti dei ministeri con cui ho frequentazione quotidiana con centinaia e centinaia di loro, spesso si chiedono ma ha davvero valore questo sforzo di produzione di questa relazione così ponderosa che ci dà tanta fatica? La vanno a leggere? No, non voglio svelare un arcana imperi, però potete immaginare come appunto con questa ricchezza di documentazioni, poi per adesso non sta a me chiaramente di battere, di scettare su dove si debba concentrare il lavoro parlamentare. La relazione dà conto di quasi 2.000 incentivi attualmente in essere nella normativa nazionale, gran parte sono incentivi regionali, circa 1.700, circa 200 sono invece gli incentivi nazionali, 81 quelli gestiti dall'Agenzia delle Entrate. La legge delega, quindi non posso dare conto di risultati, ottica del risultato, potete immaginare che chi ha una formazione economica, come non possa non vedere come una stella polare, l'ottica del risultato rispetto all'ottica diciamo della procedura. L'obiettivo fondamentale è appunto razionalizzare e per andare ai criteri direttivi di cosa è ispirata questa riforma degli incentivi, in primis una stabilità, l'imprenditore ci dice ma quell'incentivo che c'era l'anno scorso, il credito di imposta, la Sabatini, la misurabilità dell'impatto, non dico che dobbiamo sempre subordinare la concessione di un incentivo alla verificabilità ex post se hai aumentato il tuo fatturato, hai migliorato la tua prestazione aziendale, però certamente dal punto di vista dell'operatore pubblico che si chiede sto dando delle risorse, per cosa le sto dando, sono soldi spesi bene, è la classica espressione che utilizza chi fa valutazione di impatto delle politiche pubbliche, uno dei principi è la misurabilità dell'impatto dell'incentivo, la programmazione ovviamente, l'eterna cenorentola delle politiche pubbliche nazionali, il coordinamento Stato-Regioni, è stato evocato anche prima, ci sarebbe molto da dire, la conoscibilità, non passa giorno che l'imprenditore ci dica a non sapevo che esisteva quell'incentivo e non gli puoi rispondere no, ma la legge non ammette ignoranza, ci sono una miriade di strumenti, l'associazione di imprese, per renderlo conoscibile, però chiaramente nella legge delega si è voluto sottolineare i principi e i criteri di diritti, per questo elemento, cerchiamo anche di comunicare all'imprenditore, poi il destinatario finale, che esiste l'incentivo, la digitalizzazione, sa va a san dire, la semplicità, se devo rivolgere un consulente, riempire centinaia di moduli per ottenere un incentivo, è quasi più il costo che il risultato, l'uniformità, non vado oltre l'unico principio che voglio sottolineare, forse l'avrei dovuto citare per primo, la valorizzazione dell'imprenditoria femminile. Poi c'è la strategia e quant'altro. Ultimo elemento di questa riforma complessiva, che ripeto è allo stato adesso di legge delega, entra in vigore il 30, un codice degli incentivi per avere un quadro unitario, in modo tale di avere regole unitarie, ma che ogni singolo incentivo io mi devo baloccare e chiedermi se risponde alla regola X, Y, regionale, locale e quant'altro. Non so se ho brutalizzato troppo sinteticamente l'ispirazione di fondo della delega a incentivi. Mentre sul DDL Made in Italy, qualcosa ha già detto prima il Vice Ministro Valentini, lì le norme sono tante, vi dico solo che in prima lettura alla Camera dei Deputati, ancora non ho preso visione di tutte le modifiche che sono state approvate ieri al testo, per cui ci sarà una seconda lettura. Le misure sono tante, vi cito solo, oltre al Fondo Sovrano, che non è un'iniziativa di un Consiglio di Sovranista, fondi sovrani ne hanno moltissimi stati, non solo la felice Norvegia che l'ha potuto creare in virtù delle estrazioni petrolifere, ma anche molti altri paesi europei, il Vaucer 31, il liceo del Made in Italy, la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, immateriale, questo paese, il registro dei marchi per i luoghi della cultura, la definizione di impresa culturale creativa, il Comitato Nazionale per il Raccordo delle Campagne di Promozione del Turismo all'estero, abbiamo regioni che promuovono se stesse, non sanno nemmeno che un'altra regione spesso sta promuovendo quello stesso prodotto in quello stesso Stato, il contrassegno per il Made in Italy, pieno rispetto alle normative internazionali, e in vista della protezione uniforme europea e delle indicazioni geografiche, una ricognizione delle produzioni tipiche di ogni singola regione, che spesso non solo non sono conosciute, ma non sono neanche valorizzate. Io mi fermerei qui e spendo davvero l'ultimissima parola nel mood generale dell'orientamento, una espressione di cui spesso non mi ha mai capito il senso, è che le imprese devono fare la loro parte. Cosa vuol dire? Le imprese, tutti i giorni che si sveglia, la mattina l'imprenditore sa che deve pagare i suoi dipendenti, sa che deve pagare le imposte, sa che deve adempiere una miriade di norme, di regolamenti, di adempimenti, e sa un'ultima cosa, forse non so se faccio una scoperta, che se non risponde al mercato, se non crea profitto, fallisce, a differenza di altri. Grazie. Allora, tanti temi che ha messo sul tavolo Renato Loiero, Massimo Caputi, c'è ovviamente un grande problema di scenario, si parlava di questo termine, di questo anglicismo, il reshoring, il ritorno delle filiere in un determinato paese, o addirittura in un quadrante, è bastato un incidente di un container che si era messo di traverso nel canale di Suez un anno e mezzo fa e abbiamo rischiato di non avere matite e fazzoletti e tantissime particelle, elementi, pezzi di ricambio. Quindi siamo dipendenti da catene esterne, ma poi basta una guerra come quella fra Ucraina e Russia e improvvisamente scopriamo che si crea un effetto farfalla per cui le nostre industrie di avanguardia del nord che funzionano tutti con lavorazioni green, con forni elettrici e quindi hanno molto bisogno di chizza, si trovano improvvisamente senza materia prima. Insomma, continuamente si disegna e si ridisegna il profilo acrobatico che qualunque impresa in Italia affronti il mare e faccia il suo lavoro deve immaginare ogni giorno, che vuol dire veramente combattere una battaglia per le materie prime, per il processo di trasformazione, per i brevetti e per il know-how. Quindi qual è il suo punto di vista su ciò che è stato fatto e ciò che si potrebbe fare per agevolarne nel loro lavoro? Grazie e buongiorno a tutti. Io manderei un po' di imprese italiane e anche i governanti italiani a vedere la fiera internazionale di Canton che si svolge una volta l'anno in Cina, l'anno sospesa per quattro anni è ricominciata quest'anno ed è fantastica perché sono quattro moduli di tre giorni intervallati da tre giorni di stop per cambiare tutto e si scopre il mondo, e si scopre il mondo italiano. Un grande produttore di impianti outdoor, quindi tende, ombrelloni, lettini, arredi di lusso italiani, famosissimo Made in Italy, sono andato a visitare il suo stabilimento, abbiamo fatto un accordo quadro, poi ho chiesto di vedere la logistica, mi hanno portato una logistica, era tutto Made in Cina, è tutto marchiato italiano. Allora, c'è un problema che ha sollevato giustamente lei. Abbiamo avuto un problema di trasporto navi, gli alberghi italiani che fanno grandi forniture non avevano più le ciabatte, sono più arrivate le ciabatte, che con te non arrivavano, punto. Non parlo dell'Audi che non aveva i microchips, parlo delle ciabatte. È molto più efficace come esempio. Noi abbiamo un problema, noi siamo sul marciapiede, siamo proprio sul marciapiede tutti i giorni, tutto il sistema, io mi occupo in particolare di due cose, di sistema turistico, ma mi occupo anche di una cosa molto più delicata, dell'Associazione Nazionale dei Marchi Storici. Il consigliere Oriello parlava del Made in Italy, noi in questi minuti stiamo discutendo sul Made in Italy, sui Marchi Storici, perché c'è una legge dello Stato del 2019 che finalmente in Italia ha introdotto i Marchi Storici e fondamentalmente sono un asse portante del Paese, sono 52.000 imprese che sono Marchi Storici. La prima impresa italiana è dell'anno 1000, di cui si ha traccia e continuità. Allora, tutti i giorni dobbiamo dal marciapiede dire, certo, devo dire, le complessità che richiamava il consigliere L'Ogliero esistono. Qual è la prima, che cosa faceva la prima impresa italiana? Scusi. È una fonderia, è una fonderia dell'anno 1000 ed è sempre stata in continuità con la stessa famiglia, ma ci sono dei casi, non parlo dei casi famosi come Antinori, piuttosto, che hanno comunque 700 anni di storia, ma è bellissimo il mondo delle Marchi Storici italiane, peraltro il Ministero sulle nostre sollecitazioni a fine gennaio fa una mostra di due mesi al Palazzo Piacentini che poi andrà in giro per il mondo e troviamo delle cose incredibili, incredibili, cose assolutamente ignote nella nostra storia. Allora, siamo su un marciapiede tutti i giorni, tutti i giorni dobbiamo, come giustamente diceva lei, ridisegnare i movimenti delle nostre imprese in un contesto internazionale che è sempre più violento, gestito, peraltro, nel settore specifico che segue il turismo dalle piattaforme internazionali. Quindi, si parlava di nanismo, noi abbiamo l'82% degli alberghi che è one-off, appartiene a famiglie. Abbiamo il doppio dei posti letto della Francia, un milione e trecento mila di posti letto, la metà dell'occupazione. Quindi c'è un problema, tant'è vero che qualcuno forse vecchio come me ricorderà che nel 1975 l'Italia era prima al mondo per incoming, oggi siamo quinti, però siccome due non contano che sono la Cina e l'America, siamo terzi dopo la Francia, la Spagna, c'è l'Italia. Quindi, sostanzialmente, oggi si sta tentando di ridisegnare, devo dare atto che c'è un grande sforzo rispetto al passato, forse uno di questi risultati che abbiamo oggi che è un po' tornata la politica in campo, c'è un grande sforzo, poi ci sono le competenze, le hanno trovate, eccetera. Noi però, e concludo per non rubare troppo tempo agli altri, abbiamo perso una grandissima occasione che è il PNRR. Io lo critico su sole 24 ore, tre anni fa, due anni fa, un anno fa, non lo so trovato. Il PNRR era l'occasione per risettare veramente il Paese come stanno facendo in Spagna e in Francia. Noi, anche a causa dei movimenti politici che sono stati di da scritto, abbiamo fatto del PNRR un progetto assistenziale del Paese. Faccio un esempio per tutti, 440 milioni dati a 21 a 22 borghi italiani, 20 milioni da 1, borghi per lo più disabitati, i soldi sono ancora non spesi, volete che ci toglie l'elenco, il fatto quotidiano che fece giustamente giorni fa un articolo su sta storia dei borghi, roba da ridere, roba da ridere. Io sono di origine abruzzese, 6 miliardi e mezzo alta velocità Roma pescata, infattibile, una volta era anche un geniere, è infattibile, i 6 miliardi e mezzo stanno là, bruciati. Quindi abbiamo un problema di PNRR che era lo strumento e forse lo è ancora se c'è una volontà perché questo governo si è impegnato a modificarlo di rifare qualcosa sul PNRR perché abbiamo i tempi per farlo, anche perché non ci dimentichiamo che sono soldi a debito, quindi alla fine magari sulle spalle sicuramente dei miei figli o dei miei nipoti graveranno. Quindi c'è uno sforzo, c'è una dimensione globale e c'è un perimetro internazionale che non è facilissimo, noi abbiamo due guerre praticamente vicine e la terza a rischio esplosione in Kosovo, perché non è che lì si sono addormentati, ogni giorno monta la cosa, però devo dire che malgrado tutto questo contesto il nostro sistema tira, turismo, abbiamo avuto un'esplosione nel 2023 ma l'esplosione è dovuta a che cosa? Al dollaro praticamente pari con l'euro ci ha riempito di americani, abbiamo avuto una quantità di americani che in Italia non sono mai arrivati se non nel 45 esatto, quindi oggi è necessario uno sforzo però questi erano disarmati almeno questi sono armati i dollari infatti abbiamo avuto un altro effetto però tanto per dirlo perché finito tutti i giornali 5 milioni di italiani sono andati in vacanza in Albania perché le tariffe in Italia sono entrate esplosive cioè è successo l'aeroporto di Tirana che faceva 560 mila utenti l'anno stanno ne fatti 7 milioni e mezzo di cui 5 milioni di italiani infatti Edirama ha detto i barconi al contrario stiamo facendo quindi però voglio dire c'è uno sforzo c'è una questione c'è anche devo dire un Parlamento abbastanza disponibile a 360 gradi a capire che è necessario uno sforzo certo certi sistemi non si smontano e ripeto lo ripeto e se potete qualcuno vada a vedere la fiera di Canton e capisce qual è il tema certo poi andiamo a visitare le fabbriche devo dire c'è le foto c'è un momento di dire che una fabbrica così in Italia la chiuderebbero dopo 3 minuti lavorano 14 ore di fila con 20 minuti di stop pagati 200 dollari e che competiamo perché ultima cosa i nostri dipendenti guadagnano poco questo ce lo dobbiamo dire i nostri io quando c'ho un mio operativo che prende netti perché lui guarda il netto lui guarda quello che viene in tasca al costo aziendale prende 1500 euro guadagna poco non c'è niente da fare il problema è un altro che quel signore mi costa 3420 euro quindi questo è un problema drammatico di cui l'Inps ne assorbe una buona parte quindi a questo il governo deve tentare di fare uno sforzo se vuol dare una mano al sistema paese come pare o gli adali allora Giuseppe da Finocchiaro Massimo Caputi ha legato molto bene il piccolo e il grande ne vediamo continuamente di queste collisioni io l'altro giorno mi sono imbattuto in una foto di Netanyahu che stava nel porta a porta israeliano e indicava su una carta geografica che era grande come uno schermo che occupava tutto lo studio la nuova via del cotone la cosa che mi ha colpito è vedere che questa linea tratteggiata partiva da veramente lì di esotici ovviamente dall'India attraversava Emirati Arabi Arabia Saudita Gaza poi attraversava il Mediterraneo e approdava proprio in Italia e a Taranto ora una delle tante conseguenze di questa guerra ma forse potrebbe essere una causa è che è saltata la pace di Abramo che era la garanzia che avrebbe tenuto in piedi quella via senza questa pace non esiste la possibilità tranquilla di attraversamento di convogli che avrebbero dovuto unire come buoni vicini Israele e Arabia Saudita ma attenzione la cosa che più mi colpisce è che un amico a cui segnalavo questa anomalia poi mi ha detto sì però il problema è un altro come si può immaginare che fosse una ferrovia elettrificata che attraversava nella parte più importante di questo percorso il principale produttore di nitrocarburi del mondo era come dargli uno schiaffo quindi immaginate come quando parliamo di connessioni commerciali noi dobbiamo tenere insieme la geopolitica i problemi etnico religiosi ma anche le risorse ambientali di un paese che decidono la sua politica quindi la domanda che faccio sull'Italia è ovviamente molto più vicina però se un container ha bloccato le ciabatte negli alberghi italiani dobbiamo immaginare che per noi si aprono e si chiudono mercati alla velocità della luce basta che un marchio come Benetton dica riportiamo solo nel bacino del Mediterraneo le nostre produzioni e cambiano tutte le possibilità di commercio ma basta anche che intervenga una guerra un conflitto una qualunque dimensione e cambiano le regole del gioco allora la domanda è che cos'è veramente che dobbiamo difendere in questo nome così aulico bello e anche imitato e anche contraffatto che è il Made in Italy ma in questo grazie per l'invito e grazie anche per questa domanda che apre uno scenario complesso che è lo scenario della post globalizzazione in cui in realtà lo vediamo ogni giorno si sta cercando di ritrovare un nuovo ordine una nuova struttura il mio punto di vista naturalmente è quello di chi ha sviluppato in questi anni delle competenze in particolare in materia digitale e anche qui lo scenario geopolitico oggi è uno scenario particolarmente controverso e particolarmente effervescente perché? perché il tema del giorno è l'intelligenza artificiale naturalmente e su questo tema dell'intelligenza artificiale oggi siamo passati a un livello politico vero e proprio fino a qualche giorno fa se ne discuteva dal punto di vista tecnologico dal punto di vista giuridico se volete adesso lo scenario è uno scenario politico vi siete accorti che nell'ultimo mese tutti si sono affannati a reclamare regole sull'intelligenza artificiale dal G7 al presidente Biden che ha emanato il suo executive order al summit di Blece Park al trilaterale Italia Francia Germania tutti vogliono le regole sull'intelligenza artificiale perché? perché è diventata una materia strategica dal punto di vista politico cioè si vuole affermare una supremazia politica in questo settore come anche attraverso le regole non è strano che gli Stati Uniti vogliano delle regole su questi temi proprio gli Stati Uniti che voglio dire per anni hanno governato internet fondamentalmente senza le regole ma attraverso le loro imprese e perché vogliono le regole? perché vogliono come dire evitare che l'Europa anche in questo caso come è stato per il passato per la controversa normativa sulla privacy possa affermare il suo modello appunto controversa perché in realtà anche lì abbiamo avuto un rischio di formalizzazione di democratizzazione che rischiamo di avere di nuovo dal punto di vista europeo sull'intelligenza artificiale perché come spesso si dice noi non investiamo in tecnologia ma produciamo regole perché naturalmente le regole dal punto di vista europeo sono come dire a basso costo anche questo però non è vero perché il costo poi è sulle imprese e allora che cosa bisogna fare? Secondo me l'Italia in questo momento può giocare un ruolo importante proprio essendo uno degli attori che governerà anche attraverso il G7 il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulle regole dell'intelligenza artificiale io ho dei dati che ho raccolto per questo nostro incontro dei dati del DESI il Digital Economic and Society Index e vi stupirà sapere che le nostre imprese dal punto di vista della digitalizzazione non sono messe male sono più o meno nella media europea dove in digitalizzazione perdiamo e sulle competenze individuali della popolazione in particolare delle donne però le nostre imprese investono poco in intelligenza artificiale e in big data meno delle colleghe europee e allora che cosa possiamo fare per essere della partita? Cercare di investire di più dal punto di vista tecnologico su questo dal punto di vista delle competenze dal punto di vista formativo Ma perché non lo facciamo? Ha un'ipotesi Secondo me non lo facciamo secondo me non lo facciamo per due motivi almeno ne vedo due uno quello di competenze cioè noi abbiamo un pregiudizio culturale nei confronti delle competenze tecnologiche scientifiche un disastro poi se si pensa al femminile le competenze femminili in questi settori e quindi noi come paese scontiamo la carenza di ingegneri di informatici di ricercatori in questo e inoltre e questo invece è un problema diciamo così più di governance noi abbiamo nel nostro paese una frammentazione enorme di competenze sul digitale se si deve decidere qualcosa sul digitale le autorità le agenzie i ministeri gli enti che se ne occupano sono tantissimi non possiamo rischiare di sbagliare di nuovo sull'intelligenza artificiale attenzione cioè altri paesi in tutto il mondo hanno già istituito autoriti ministeri agenzie sull'intelligenza artificiale e noi rischiamo anche qua di frammentare tutto e alla fine di non avere qualcuno che guida di non avere qualcuno al timone ecco questo sarebbe un grande errore assolutamente sì lo giro subito a Valentina Marchesini fra l'altro a proposito di Albania giorni fa parlavo con un imprenditore piemontese che aveva bisogno di allacciare una linea di alta portabilità in Albania l'aveva fatto in Piemonte aveva avuto bisogno di un anno e mezzo quindi si era fatto il segno della croce in un mese ha avuto tutto attivo e ho incontrato il presidente di Rama per tutt'altro stavo girando un documentario e mi ha raccontato perché se uno va ora a Tirana vede esclusivamente cantieri che costruiscono opere e sono tutti italiani è venuto qui all'ordine degli architetti a Milano in Italia ovviamente ha detto signori qualunque cosa vogliate fare questo è il paese dove avrete un'opportunità di farlo sono arrivati i fondi europei li hanno utilizzati con più efficienza di noi lo iero quindi questa è una cosa che è frustrante ma la cosa più incredibile è che qualcuno non aveva aderito a questo invito e allora lui è andato direttamente da un importante studio di architettura di Milano che ora non cita ha detto perché non avete aderito a un progetto da noi a Tirana e allora non c'era nulla che ci interessasse e allora come un venditore che tira fuori una lecornia dal suo cappello e di Rama ha detto ma guardate c'è un monumento un po' particolare che abbiamo a Tirana cioè proprio nel centro come se fosse a piazza Montecitorio c'è una piramide ed è il mausoleo funerario del vecchio dittatore albanese in Berrocia allora se voi riconvertite questa piramide io vi do tutti i permessi e tutte le possibilità di cambiarla ora veramente sembra il paese dei balocchi questo studio è tornato da Edirama me l'ha raccontato lui ridendo ha detto noi vorremmo farla renderla attraversabile il tetto perché l'interno non ci interessa è anche trasformarla in una pista per skateboard lui ha detto bene se ora andate a Tirana vedete la stanno per inaugurare è stata fatta da un'impresa italiana e c'è già la fila delle persone arriverà gente da tutto il mondo cioè come se uno potesse fare surf sulla piramide di Cheope quindi è un bello spunto che do fatevi valere allora sul tema riconversione mi sono venute in mente tante cose allora intanto penso la prima cosa qui ho pensato sono state le persone perché noi dobbiamo lavorare culturalmente sulle persone digitalizzazione perché abbiamo delle imprese e uno dei motivi forse per cui le nostre imprese investono poco in digitalizzazione io non la mia la mia impresa non è l'esempio fortunatamente tant'è vero che devo cambiare mi sono accorta proprio questa settimana che devo un po' cambiare la narrazione sulla mia impresa io ho sempre detto che noi progettiamo e produciamo impianti di confezionamento per la verità le ultime quattro imprese che sono entrate a far parte del nostro gruppo sono delle software house che si occupano di intelligenza artificiale quindi forse la narrazione va un attimo rinnovata quelle persone quindi questo l'ha fatto per rispondere alla Marchesini per dire che forse uno e per tornare al tema persone è che purtroppo tutto questo universo di micro imprese che abbiamo e di cui dopo dico qualcosa purtroppo hanno un problema che noi dobbiamo attaccare che gli imprenditori sono anziani qui c'è un fatto culturale c'è un fatto anche generazionale mi rendo conto che io ho 41 anni mi rendo conto che nella mia impresa delle volte quando si parla di temi di digitalizzazione faccio fatica io immaginatevi che fatica può fare mio padre che di anni ne ha 67 pur essendo un imprenditore sicuramente visionario però sanno delegare questi grandi vecchi o no? è ironico no alcuni sì non voglio entrare su questo perché qui ci sarebbe da stare tanto forse delegano poco ma ci dobbiamo mettere anche noi quanto ce lo andiamo a prendere quanto andiamo a insistere sulla delega perché è una cosa che nella mia azienda combatto non mi va bene che la generazione nuova dica non ci lasciano spazio tu che spazio ti vai a prendere aperto e chiuso ma su questo universo di micro imprese dobbiamo fare attenzione perché la mia impresa le grandi imprese capofiliera del manifatturiero in Italia senza le micro imprese non lavorano io i famosi impianti non li faccio più se non ho lo zincatore quello che mi fa il pezzo quello che mi fa la lavorazione e quelle imprese lì stanno invecchiando e dobbiamo fare un lavoro culturale anche sui nostri giovani io ho il privilegio perché è un privilegio di incontrare tantissimi giovani ingegneri che aspirano ad andare a lavorare nella grande impresa e invece anche lì la narrazione deve cambiare farebbero molta più carriera velocemente qui faccio un appello ai professori universitari diteglielo fanno carriera più velocemente se vanno a lavorare nelle piccole imprese perché alla Marchesini Group prima di diventare dirigente ci metti 30 anni in una micro impresa forse è capace che diventi anche socio perché se c'è quell'imprenditore lì che si fida di te magari ti lascia l'impresa questa per dire che dobbiamo avere davvero nella riconversione per pensare al futuro del sistema imprenditoriale italiano ci vogliono sicuramente delle riforme importanti delle volte tra noi imprenditori ci diciamo che siamo degli eroi a fare impresa in Italia perché è sempre nonostante anche sul tema dell'attrattività che attraiamo però perché quando io vi garantisco sto sul marciapiede anche io tutti i giorni in strada con i nostri ragazzi e quando tutti gli anni ci incontriamo per fare la revisione delle retribuzioni e ci viene istintivo guardare i netti invece la regola ci impone di guardare i lordi c'è da star male e poi se di fianco ci metti anche il costo azienda basta io tiro giù la seranda perché noi vorremmo retribuirli molto di più ed essere molto più attrattivi anche verso tutta una serie anche magari verso i nostri ragazzi che se ne sono andati che vorremmo riportare qui ma non ce lo possiamo permettere non abbiamo i soldi e dobbiamo farci forse farci conti con questa cosa e tentare forse di essere attrattivi per altri citavate prima l'Albania e io ultimamente mi dico ma cos'ha di meno un giovane che sta studiando ingegneria meccanica a Tirana di uno che sta studiando ingegneria meccanica in Italia forse niente e forse io ho qualcosa da offrirgli a questo ragazzo più che magari un ragazzo indiano che se vuole tornare a casa dalla mamma ci mette 14 ore magari a uno che è vicino a casa ci ho qualcosa ci mette lo stesso tempo che un pugliese mette per tornare a Bari esattamente forse qualcosina in più da offrirgli abbiamo quindi riconvertire le persone dire come si diceva prima che i lavori che come il presidente Bonaccini diceva prima i lavori che faranno i ragazzi che stanno aiutando i loro figli a scegliere la scuola quindi quei figli lì questi che devono fare superiori e auspicabilmente l'università quindi sono tra dieci io non sono in grado di dirgli che mestiere offrirò ai loro figli tra dieci anni posso dirgli che lavoro faccio cambiando la narrazione posso dirgli che persone desidererei avere nella mia impresa che tipo delle persone equilibrate delle persone che hanno passione al lavoro che fanno ma che lavori andranno a fare io non glielo so dire quindi credo che dobbiamo avere molta cura delle persone delle persone intese come lavoratori ma intese soprattutto come cittadini e credo che questo faccia parte della vera riconversione che dobbiamo fare per pensare almeno ai prossimi cinquant'anni grazie allora finora questo tavolo si sta rivelando scoppiettante merito del nostro anfitrione ma credo che Franco Moschetti non tradirà il livello fra l'altro per un breve periodo delle nostre vite è stato anche mio datore di lavoro e quindi posso permettere la confidenza di fare la domanda cattiva perché sento sempre gli imprenditori vorremmo pagarli di più vorremmo trattarli meglio sono sicuro che siate sinceri però poi dopo io non faccio che raccontare le storie dei lavoratori che a 43 anni con grandi competenze non riescono neanche a mandare un curriculum cinquantenni che espulsi dal mercato del lavoro sono morti ieri intervistavamo per la puntata di Nonda le ragazze del call center straordinario di Almaviva che durante la pandemia sono 400 soprattutto donne soprattutto al sud si sono formate con corsi di aggiornamento e mi hanno raccontato rispondevamo a cittadini di Bergamo che mi dicevano un cadavere in casa e non so chi lo verrà a prendere allora queste persone ora vengono cancellate con un tratto di penna dalla mattina alla sera e io non riesco a parlare con il call center di Sky e la domanda che faccio è perché il mercato del lavoro dal vostro punto di vista e io ci credo è non riusciamo più a trovare i talenti non riusciamo a trovare i zincatori non riusciamo a trovare i giovani motivati mi arrivato magari a cercare a Tirana e però dall'altro lato del tavolo è se io perdo un treno finito e se trovo un posto fisso mi ci piazzo tutta la vita perché so che non ne troverò un altro sul mercato siccome Moschetti ha amministrato qualunque tipo di impresa in Italia sicuramente lui ha la soluzione di questo problema di un tavolo che è come se gli mancassero di due lati è come quei tavoloni di Putin in cui ci può passare un treno e mezzo prego beh io ti ringrazio ringrazio evidentemente per l'invito ma non ho queste proprietà traumaturgiche per trovare soluzioni più grandi più grandi di me no però per spiegarlo è vero che mi chiamo Moschetti ma ancora un pochino diciamo di effervescenza ma rimasta allora detto questo faccio una premessa per rispondere bene alla tua domanda io in questo convegno da cui sono qua dall'inizio c'è una parola che non ho ancora sentito nominare e la parola che non ho sentito nominare si chiama formazione il che non vuol dire la scuola dell'obbligo le scuole medie l'istituto superiore e evidentemente l'università noi viviamo in un mondo anzi la metto ancora più grande il terzo millennio è il millennio della precarietà legata alla velocità del cambiamento io immagino come magari anche un ingegnere un laureato in economia un qualunque personaggio quindi già con una scolarizzazione molto elevata possa sopravvivere in questo mondo quando c'è oggi una tecnologia che è una tecnologia d'avanguardia che da domani in mattina diventa obsoleta e quindi come si può rispondere ad una cosa del genere solo ed esclusivamente aggiornandosi continuamente quelle persone che purtroppo dici hanno trent'anni quarant'anni ho fatto questa premessa per arrivare alla risposta alla tua domanda purtroppo non sono persone formate di magazzinieri oggi non ce n'è bisogno di gente che va ad imbucare le lettere non ce n'è più bisogno cioè oggi anche la persona che all'interno di un'azienda fa un lavoro il più umile possibile deve conoscere deve conoscere una lingua perché all'interno dell'internazionalizzazione oggi le piccole aziende italiane ammesse un'azienda che sia a Tarquinia che è il mio paese natale non è che vende solo in provincia di Viterbo vende in Italia in Francia in Germania in Cina e se non conosce una lingua allora questa passione per il miglioramento io non la vedo e non vedo neanche un'adeguata attenzione in termini sistemici per i quali noi affrontiamo i problemi uno per volta no? non immaginando che il tipo di impatto possa avere questo nel sistema la digitalizzazione se è vero quello che ho detto voi prendete che so io faccio un esempio bancario se domani mattina banca intesa si digitalizza come ha fatto dall'inizio banca Mediolanum deve spellere migliaia di persone decine di migliaia di persone che cosa ci fai con queste persone se non hanno una formazione adeguata per fare una competenza che possono magari sfruttare anche in un altro ambito non soltanto nell'ambito bancario ma questo è quello che manca quando io ho visto il titolo poi se posso Luca tra riconversione e innovazione del sistema imprenditoriale italiano ma io la parola imprenditoriale l'avrei cancellata perché il sistema italiano è fatto sia dalla parte di impresa sia dalla parte politica che deve accompagnare l'impresa noi oggi dalla parte imprenditoriale e lo dico evidentemente con tutta l'umiltà di cui dispongo e ti ringrazio di avermi fatto parlare dopo la Valentina che rappresenta una delle eccellenze italiane da questo punto di vista noi oggi competiamo su tutti i mercati del mondo senza vergognarci e se le aziende sono piccole medie o grandi fa poca differenza e ovviamente come ha già detto la Valentina le piccole aziende le grandi aziende senza le piccole aziende non vanno da nessuna parte quante decisioni avete visto voi da parte del governo per mettere in rete queste aziende per fare sì che si possano accelerare processi di consolidamento dando dei vantaggi fiscali di un certo tipo e ovviamente essendo molto personalizzate in quanto in queste piccole aziende c'è sempre un fondatore c'è sempre un padrone voi mi insegnate che in assenza di incentivi è difficile mettere due padroni intorno al palo per fargli fare un'unica azienda allora ripeto secondo me il problema va visto in maniera sistemica faccio un ultimo esempio l'Italia in quanto appunto paese ha sempre cercato di fare riferimento ad esperienze estere sia tratta di un argomento A perché negli Stati Uniti sia tratta al secondo argomento A perché in Islanda 400.000 abitanti in quartiere di Roma la Francia la Germania ho capito ma noi abbiamo delle caratteristiche peculiari che non ha nessuno sia per quello che abbiamo ereditato dal passato sia per le competenze artigianali ci sono alcune cose che sappiamo fare solo noi quando vengono poi gli stranieri a comprare le nostre aziende le VMH piuttosto che gli altri non è che chiudono le nostre fabbriche perché se non ci fossero i nostri dipendenti italiani capaci di fare quel messiere lì non vanno da nessuna parte allora io dico se noi ci caratterizziamo per questi aspetti qua ma cerchiamo un modello italiano cerchiamolo di come si dice valorizzare bene le individualità noi siamo un insieme di 56-57 milioni di persone non siamo un sistema unico allora mettiamoci in questa mettiamoci in questa condizione e chiudo e poi mi farebbe piacere anche un'altra cosa Luca siccome tu mi hai presentato come diciamo un pochino effervescente anche quelli che fanno il tuo mestiere e dovrebbero far parte del sistema perché non è possibile che tutti i giorni che leggiamo il giornale sembra che qui muoiamo tutti da un momento all'altro diamo all'estero un'immagine allora io ringraziando di Dio per l'esperienza che ho fatto ho visitato 66-67 diverse paesi del mondo non ho il momento preciso perché poi qualcuno l'hanno diviso per tre l'hanno diviso per quattro va bene io non è che ho trovato tutto questo ben di Dio quando mi sono confrontato sui temi veri e seri degli altri paesi ma perché perché come ti ripeto tu una cosa perfetta non esiste tu se la prendi a spicchi prendi tante cose fatte bene ma quando le metti insieme devi essere sicuro di aver trovato il migliore dei trade-off possibili perché deve mettere insieme anche attività che spesso sono in conflitto di interesse tra di loro tu hai detto il sistema infrastrutturale italiano e voi non siete d'accordo noi abbiamo uno svantaggio competitivo del 16% sulla Germania perché la loro logistica costa il 16% meno di noi adesso però il problema qual è? dove troviamo i soldi? il PNRR non abbiamo usato quelli del PNRR e allora ritorniamo all'aspetto sistemico dove le imprese fanno i tripi salti mortali per confrontarsi tutti i giorni su tutti i mercati del mondo e devo dire che invece la politica ha altre priorità mettiamola a cuore grazie allora l'ultimo intervento quello di Veronica Tibiletti dovrà essere sfavillante perché qualche contraddizione dobbiamo portarla all'imbuto io ho il nazionalismo che hai tu ancora più sfrenato mi trovavo all'estero il giorno in cui saltò per aria il Nord Stream era un convegno a fianco di un italiano leggo questa notizia sul mio iPhone lui sbircia e si mette a piangere allora rimanevo stupito di un italiano che piangesse perché saltava il gasdotto fra Russia e Germania e mi sono chiesto perché e lui mi ha risposto dice ma quello l'ho fatto io lo abbiamo fatto noi così ho scoperto che abbiamo due brevetti industriali gli unici in grado di avere una nave posa tubi abbastanza larga da portare i tubi di un gasdotto che collega un'infrastruttura così strategica gli unici che hanno un brevetto addirittura mettevano un baldacchino per proteggersi dallo spionaggio satellitare che riesce a fondere a saldare questi tubi con una specie di anello magico tipo il signore degli anelli piacerebbe alla Meloni e poi calarlo in mare con un margine di errore di mezzo centimetro immaginate che tecnologie che abbiamo e questo è l'ingegno italiano nel mondo ma adesso ha alzato le aspettative in modo che non si fa vi dico il lato dove non funziona ero su uno stesso autobus e stavo facendo un servizio sulla manifestazione della CGL circa un mese fa e avevo su due sedili operai divisi da 300 metri da un lato l'industria Magneti Marelli ex Fiat poi venduta un fondo poi venduta un indiano che ha fatto il trucco ha preso quelle competenze li ha usati quegli operai per formare con i loro saperi altri operai poi ha delocalizzato e la Marelli è chiusa dall'altro lato del Pullman però avevo dei fortunati stessa qualifica industria metalmeccanica che erano finiti in un mondo Lamborghini tedesco e franco l'azienda è cresciuta del 3000% in 10 anni non del 300 sono passati da quando erano una bella realtà industriale a una macchina a un prodotto d'eccellenza e Lamborghini lo vedete ovunque ma non solo questa azienda dice lei ai suoi dipendenti dovete lavorare di meno dovete lavorare di meno tu dici li ritrovano il salario no vi do un incentivo salariale non a parità di salario cioè Bertinotti sarebbe rimasto stupito accade adesso sullo stesso autobus e poi dovete formarvi di più quindi gli dice la Lamborghini Volkswagen prendete fate un corso sulla costituzione chiamate Amnes International parlate dei diti umani perché noi sappiamo che ai nostri operai ha funzionato dare tutti questi input e tutti questi stimoli ma adesso vi dico la battuta divertente questo delegato della FIOM era letteralmente entusiasta e ci abbiamo fatto un corso con Zagrebelski io proprio immaginare gli operai della Lamborghini di vent'anni con Zagrebelski che gli parla del Munus quello che piace a Crozza mi sembrava già un'immagine bella ma a un certo punto ho detto ma ci sono state delle difficoltà pazzesche come pazzesche sì perché a un certo punto quando si è arrivati a declinare la riduzione dell'orario di lavoro abbiamo dovuto dire a questi operai molto specializzati fanno le lavorazioni delle macchine di russo sai che ci vuole 50 minuti quindi dei maestri ha detto ti devi prendere il lunedì non lavori sei contento e lui mi ha guardato terrorizzato ha detto ma io che cosa faccio il lunedì ma come mi hai detto che non hai tempo per andare a pesca che è la tua grande passione ma il sabato il lunedì ci andrei da solo non ci voglio andare non posso venire in fabbrica lo stesso ecco questo vi dice che sullo stesso autobus a 50 centimetri ci sono due persone che lavorano nello stesso quadrante a 500 metri sono due fabbriche attaccate e che vivono due situazioni come l'inferno e il purgatorio quindi un po' siete pazzi anche voi un po' imprenditori o no? sì io non sono un imprenditore però sono una professoressa universitaria quindi mi sono sentita chiamata più volte in casa ecco dunque volevo portare un ulteriore argomento di cui oggi magari non abbiamo ancora parlato che è il tema della sostenibilità mi sono molto interrogata sul titolo appunto del nostro panel quando si parlava di riconversione e innovazione anche io ho una buona notizia la buona notizia è che le imprese stanno facendo la loro parte per rispondere all'Oiero e su OVS Marchesini Marchesini ho studiato ho guardato sul vostro sito per esempio ha una società che riutilizza le macchine usate in un'ottica di economia circolare quindi di riduzione appunto dell'utilizzo dei materiali e questo è fare sostenibilità questo è innovare questo è riconvertirsi grandissima innovazione sul tema dei materiali quindi lo studio dei materiali in OVS tutto il tema del cotone italiano che anche Armani in Puglia ha fatto notizia al fatto che avesse impiantato una coltivazione di cotone italiano di alto livello quindi le imprese stanno facendo il loro dovere forse si sta chiedendo un po' troppo alle imprese sul tema della sostenibilità nel senso che c'è anche un tema di comportamenti individuali e qui passo al secondo ambito di osservazione che abbiamo in università che sono i giovani che sono gli studenti i giovani sono molto più attenti e molto più informati rispetto anche solo alla mia generazione rispetto a questi temi una recente ricerca della cattolica ha mostrato come il grado di consapevolezza e di richiesta sui temi di prodotti green sostenibili sia molto alto e ci sia circa l'80% dei giovani che orientano diciamo teoricamente le loro scelte di consumo in questo ambito quando poi però andiamo a vedere nella pratica i dati ci dicono un'altra cosa ci dicono che c'è un po' di pigrizia nei comportamenti individuali quindi sì seguo tutti i temi della sostenibilità a livello globale le manifestazioni grande sensibilità però poi se devo scegliere come muovermi quindi è colpa dei giovani che sono benintenzionati ben informati ma pigri e qua torno al fatto delle imprese ci si aspetta che le imprese oggi facciano il welfare l'innovazione la formazione c'è un po' troppo da quello che io vedo dal mio osservatorio in università un po' troppa pressione sulle imprese su questi temi le imprese però secondo me si stanno comportando molto bene perché stanno trasformando dei vincoli in opportunità come sempre questo è tipico dei nostri imprenditori italiani quindi appunto sui temi della sostenibilità stanno anticipando i temi l'Unione Europea è attivissima come sappiamo su questi temi è passata da semplici raccomandazioni di principio ha delle normative molto stringenti che nel giro di pochi anni cambieranno tantissimo il percorso di tante aziende e per chiamare un concetto che ha introdotto Luigi Balestra molto bene e che si è sentito tanto oggi il tema della filiera le aziende stanno facendo filiera nella sostenibilità perché quel 2% di grandi imprese che sono veramente poche rispetto al totale delle imprese dovranno a breve rendicontare sulla loro sostenibilità lungo tutta la loro filiera e quindi necessariamente i fornitori e i clienti anche più piccoli dovranno adeguarsi su questi temi e le aziende piccole e medie si stanno attivando in maniera anticipatoria rispetto a questi temi l'altra buona notizia è che l'Italia è un campione sui temi del riciclo e dell'economia circolare il circa l'ottanta per cento dei materiali viene recuperati questo è un dato altissimo che se confrontati con altri paesi europei non regge quindi ecco l'Italia su questi temi sta innovando è competitiva e si pone meglio rispetto anche altri competitor altri stati europei quello che dobbiamo fare in università dal nostro punto di vista è creare cultura creare quei nuovi profili di cui si è si è sentito parlare perché obiettivamente parte tutto dai comportamenti individuali e quindi l'università in questo ambito può dare un grande apporto portando alle imprese dei profili adeguati per queste nuove sfide bene grazie è un punto di vista è completa molte delle cose che abbiamo detto ti restituisco la palla perché dobbiamo rispettare i tempi grazie